Per sapere cosa succederà di fatto nella prossima stagione di Lega Pro per le Calabresi bisognerà aspettare ancora qualche mese, ma c'è già chi lancia i primi segnali. È il caso della regina con l'annuncio shock di Karel Zeman che dichiara apertamente il divorzio con la società Amaranto. Zeman, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha quindi anticipato quanto aveva già lasciato intendere la società che non dava nulla di scontato. Chi invece punta alla continuità è la Vibonese, in molti giocatori che hanno manifestato la volontà di vestire la casacca rosso-blu anche nella prossima stagione, partendo momentaneamente dalla Serie D. Tra gli ultimi, proprio il centrale cagliaritano Moe che insieme a Giuffrida e compagni rappresenterebbe l'asse della continuità, considerando inoltre la volontà della società di puntare sul rinnovo di mister Campilongo, senza perdere di vista la possibilità di tornare tre professionisti. Dopo la cociente sconfitta che ha chiuso definitivamente la corsa a promozione, per il Cosenza è già tempo di pensare al futuro. Previsto un incontro tra Guarascio, Valotti e De Angelis per capire quale sarà lo scheletro della squadra per la prossima stagione. A Catanzaro, invece, ancora nulla di fatto. Bisognerà aspettare la fine del mese per capire chi e come intenderà portare avanti la società dopo lo scandalo Moneygate. Maria Chiara Sigillò per la CNews24. Grazie a tutti. Grazie a tutti.